Buongiorno a tutti, sono Alessandro Zambelli, responsabile marketing di Goldoni Keystrak. Benvenuti sullo stand padiglione 19A2 di Eima International, dove potrete ammirare tutte le novità del mondo Goldoni. Partiamo dal Q100 o 110, due modelli disponibili nella versione Q-Track, ossia semi-cingolato. Ruote anteriori davanti, cingolo triangolare posteriore per massima trazione più 30%, ridotti ingombri, larghezza minima 1,40 m e grande superficie di appoggio, massima stabilità anche in situazioni estreme. Ideale per tutti i clienti che cercano il massimo della trazione e l'ottimo compattamento del terreno. È una macchina in fase di test, la vedete qua in Fiera e poi proseguirà i test per essere disponibile sul mercato dalla metà del prossimo anno presso tutti i concessionari Goldoni. Vi aspettiamo in Fiera!